benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui a bordo del conde perché questa è a tutti gli effetti la nostra recensione della nave una delle sei supernavi di incrociatore super flanker francese siamo qui su northern waters battaglie classificate nakimov contro midway montana curfus contro montana kremlin un solo destroyer per lato z52 tedesco contro marzo francese il conde comandanti è un piccolo grande mostro unico nella sua tipologia ed è anche una delle navi più apprezzate delle sei supernavi in modalità diciamo limitata noi giocheremo essenzialmente sul cap di a che poi sapete è il più importante nel triplo cap ranked di northern waters spesso è lì che si decide la partita il conde è un progetto che in realtà non ha mai visto la luce è un fantomatico è una fantomatica unità del 1957 che però la marina francese non ha mai realmente costruito c'è in effetti un conde realizzato per la marina transalpina ma risale al primi del 1900 ed era un incrociatore corazzato ma diciamo non era neanche un incrociatore diciamo che era una nave di superficie super corazzata non però di categoria batteship una nave diciamo speciale comunque della marina per quanto riguarda il conde appunto è armato con dei cannoni da 240 mm molto interessanti che poi vedrete effettivamente in azione ha un quantità vhp importante di 63.000 con un 19 per cento di danno riduzione sui torpe e ha un'armatura molto particolare che poi vedrete nei dettagli nel post partita che va da 130 a 180 con uno scalino molto strano che ricorda un po una turtle back tedesca la velocità è impressionante perché 36 nodi e 2 con la bandierina a bordo ma ha la particolarità di avere il boost speed quindi aumenta del 20 per cento questi 36 nodi trasformando la nave in un missile per quanto riguarda invece il timone è così così 900 metri di raggio virata con un timone che risponde in massima efficienza in 10 secondi e 3 la sua capacità stealth è diciamo mediocre 13 chilometri di vestibilità massima via mare e 8 chilometri in via aerea e via sommersa davanti a noi c'è subito il napoli visto come le mar sono nemico si è messo in una zona piuttosto pericolosa questo perché ha cercato in tutti i modi di conquistare il cap ma doveva pensare e prevedere che lo z avrebbe navigato in quella zona quello che però lui non ha previsto è la posizione del nevski alleato che lo sta praticamente mettendo in mutande perché lo sta crivellando con i 180 millimetri sulla sua pop e sulla sua fiancata di sinistra a questo punto poi c'è anche la porteria che lo sta mantenendo un po spottato la sua partita non durerà poi ancora a lungo purtroppo per lui cramina e montana sono praticamente a rimorchio sul cap di a mentre il napoli ovviamente si è messo in posizione di kaiti in questo perché ha visto arrivare la montana e la curfus e non poteva certo pensare di attaccarle da solo in isolamento la curfus ha trovato con una grande legna praticamente il marsò e ora il nemico è senza destroyer e quando la partita cominciano così è veramente molto molto difficile pensare di riuscire a recuperare una partita in modalità domination senza dd in acqua anche se magari la porteria può sembrare effettivamente superiore la montana classico giocatore che non guarda dove va probabilmente era già in modalità cecchino e tra l'altro è un giocatore francese di un clan scarsissimo ma vi lasciamo perdere noi siamo passati ai nostri proiettili a ca e stiamo cercando di incendiare a dovere il napoli il vetristo come colpo è incredibilmente preciso e pesante questo perché i cannoni da 240 mm che fanno malissimo sui target di qualsiasi genere comandanti questi cannoni appunto sono tre torri quadrinate da 240 mm capaci di sparare fino a 19 chilometri e mezzo con una dispersione di soli 156 metri il colpo è veramente chirurgico la sua ricarica è di 13 secondi e 2 con un brandeggio a 180 gradi in 33 secondi netti devo dire che i cannoni offrono veramente uno standard assurdo guardate adesso la pinazione sulle sovrastrutture della cremlino è 13 3200 ma era leggermente ivrati vi posso assicurare che magari sulla sovietica fa un po più fatica ma quando spara sulle sovrastrutture di tedesche americane giapponesi inglesi soprattutto i danni possono arrivare con grandissima facilità con qualsiasi genere di proiettile per quanto riguarda poi i propri proiettili di questa nave le api hanno una ballistica di 845 metri al secondo con 6510 di massimale con il setup comandante che poi vi faccio vedere mentre le h e hanno una fire chance del 24 per cento e arrivano a 3400 con la medesima ballistica dei colpi api quindi una ballistica veloce ma non proprio al top ma comunque molto veloce avete visto quasi 10k di h e sulle sovrastrutture della montana e giù l'incendio come detto prima la pesantezza del colpo unita alla sua fire chance unita dalla sua incredibile proprio imprecisione fanno sì che questa nave abbia delle capacità offensive contro le battleship veramente veramente importanti la partita è cominciata da solamente 5 minuti e siamo già arrivati a ridosso degli 80 mila danni e se guardate abbiamo già tancato quasi un milione di danno potenziale la sua armatura ogni tanto dà dei brutti scherzi ma è pur sempre un incrociatore che tanca le corazzate non si può certo pensare di avere la meglio contro navi molto più pesanti però vi posso assicurare che altri incrociatori assorbono i colpi in maniera decisamente peggiore rispetto a lui qui stiamo utilizzando anche uno dei suoi potentissimi consumabili ovvero il reload boost che conoscete bene perché a bordo di tantissimi incrociatori e anche alcune battesci francesi questo consumabile come detto prima diminuisce del 50 per cento la ricarica dei vostri cannoni gli permette di riaccendere una nave che magari si è appena riparata e appena spento l'incendio io generalmente il consumabile lo utilizzo in questo modo per quanto riguarda poi cannoni lo trattiamo l'ultima cosina e hanno anchissimi esattamente come la napoli che avete visto la settimana scorsa la capacità di avere la il tasto f ovvero il consumabile speciale il cosiddetto burst fire e burst fire in questo caso permette al conde di sparare due salve consecutive con tutte e tre le torri e va poi in ricarica di quali per 44 secondi quindi è come esattamente come per la napoli su un consumabile da situazione perché è particolarmente utile nel combattimento ravvicinato quando magari dovete distruggere una nave che è rimasta ormai con pochi punti vita o dovete caricare qualcosa ma è quando giocate a lunga distanza non ha nessun senso perché poi 44 secondi di ricarica sono tanti anche se avete usato due salve la crema in ora cerca di allargarsi leggermente sta facendo una manovra semi suicida perché comunque c'è lo z lì vicino che però ha deciso di lanciare i siluri sul napoli che sta conquistando il cap avete visto nuovamente l'incendio avete visto come l'incendio cadono veramente con una regolarità che è disarmante 121 colpi 7 incendi ma sono canoni estremamente potenti e abbiamo utilizzato anche l'ap quindi per far capire quanto può far male ora siamo passati appunto ai proiettili ap cerchiamo la fiancata del napoli che ci sta dando il broadside a circa 13 chilometri se la troviamo e la cittadella comunque è automatica il napoli è molto ben protetto ma questi canoni hanno una penetrazione veramente veramente importante non ricordo se arriva questo una cittadella oppure no sta leggermente virando e questo praticamente lo salva dalla cittadella per quanto riguarda le secondarie perché sono particolari le secondarie del conde ha 8 torri biate da 127 millimetri come la napolis però queste secondarie praticamente ricaricano in 3 secondi e 4 10% di firesh ma soprattutto arrivano a 9 chilometri e 200 metri ogni volta che un destrone viene spottato vicino a voi è un parto per il dd perché le secondarie lo tartassano e in questo è una praticamente una mini corazzata a livello di secondarie ed è una particolarità piuttosto unica nel reparto nel reparto cruiser specie per un cruiser pesante perché non è un battle cruiser è un incrociatore pesante è poi armato con due lanciatori quadruple di siluri uno per lato fino a 9 chilometri siluri con 1.3 chilometri di spotting quindi particolarmente invisibili che viaggiano fino a 60 nodi e hanno una ricarica di oltre 100 secondi quindi sono dei siluri molto simili a quelli dell'herry francese per quanto riguarda invece l'air strike e qui non è segnato ma vi assicuro che è a bordo questo perché c'è un bug sull'interfaccia delle ranked rispetto alle navi classiche l'air strike del conde è composto da due aerei che lanciano fino a 6 bombe con una ricarica di 90 secondi fino a 6 chilometri 3.400 di danno massimo per bomba di profondità quindi a differenza di altri incrociatori che utilizzano le bombe classiche sganciandoci e andandoci sopra il sommergibile lui può tirare una strike esattamente come una corazzata il reparto antiero è uno dei suoi pochi problemi perché la nave è incredibilmente forte infatti è armato con cannoni antieri da 127,57 mm che fanno un focus continuativo di 326 e 1680 di flak nei cieli fino a 6 chilometri è una buona antierea, buona, ma non è eccezionale non ti direi che è mediocre, tendente al mediocre perché la gittata è buona comandanti ma il danno è considerevole, arriva solamente a basse distanze quindi quando arriva lì la portaria già vi può droppare addosso potete tranquillamente gestire le portari tier 8 se in futuro verranno messi nelle random battle e il matchmaking lo prevederà, ma dubito che avvenga ma contro le tier 10 il discorso cambia e diventa molto molto difficile gestire questo aspetto le portari, il conde, le soffre e le soffre veramente tanto intanto la portaria nemica è stata praticamente affondata perché si è messa là sopra nell'angolo e il montana l'ha disintegrata noi torniamo a trovare questi facili incendi contro il Napoli che ormai è rimasto veramente al limite noi tra l'altro ci stiamo mettendo in una posizione offensiva per cercare di difendere la midway che è in fuga siamo l'unica nave che difenderà la nostra porta aerei ma questo ci metterà praticamente sotto un crossfire di Napoli a Napolis e Stalingrad non proprio una cosa bella anche per un grande incrociatore come il conde per quanto riguarda i consumabili che avete visto un po' in azione in questa partita il sonar spot a siluri fino a 3,5 km e i navi fino a 5 quindi è particolarmente buono non forte come i tedeschi ma comunque è un buon sonar per quanto riguarda il boost speed più 20% di velocità l'abbiamo detto prima con una durata praticamente di circa 180 secondi quindi dura veramente parecchio per quanto riguarda invece il reload del boost l'abbiamo trattato prima l'avete anche visto prima quando lo utilizziamo spesso contro le navi per generare nuovamente degli incendi e infine abbiamo un repair party che praticamente ricarica in 76 secondi e vi permette di curarlo fino a 378 con la bandierina a bordo per 28 secondi quindi è un repair party particolarmente buono qua ci metteremo adesso di prua contro gli ultimi tre incrociatori la partita può sembrare ancora bilanciata dal punto di vista del punteggio ma solo perché loro hanno due cap ma se guardate la differenza di HP oltre al fatto che noi abbiamo ancora due corazzate e loro le hanno tutte perse sapete benissimo avete capito benissimo che la partita ormai è praticamente terminata qui io praticamente ho previsto di riuscire a sopportare un po' il danno dello Stalingrad non ho previsto però che la Napoli se tornasse indietro pensavo che cercasse di salvarsi la vita e a questo punto diamo un po' a cambiare sulle due navi cercheremo di tirare giù prima lo Stalingrad che ha anche incendiato ho usato adesso il damage control e poi cercheremo di tirare giù il Napoli che però con le secondarie è un cliente particolarmente ostico anche per il Condé anche perché quelle secondarie sono armate a SAP e fanno molto molto male tra l'altro qua entra in azione un consumabile comandante perché diamo il comandante leggendario dal nome impronunciabile lo trovo particolarmente buono anche su questo genere di nave siamo praticamente di prua sfruttiamo anche il talento della ricarica migliorata o potevamo andare tranquillamente con le AP però vabbè il Napoli è rimasto praticamente ormai solo non stavo lì più di tanto a cambiare proiettolo lo faccio solamente adesso però vi spoiler ho comandante che riuscirà a incendiarci con una salva finale di AP questioni di secondi perché con la prossima salva l'avremmo affondato ha vinto lui di pochissimo però complimenti al Napoli che si era giocata abbastanza bene comandanti questo è lo screen della partita eccolo qua quasi 206.000 danni 205 colpi qualche roba battuta ne ha visto comunque le bombe le abbiamo sofferte 12 incendi qualche colpo di secondaria 2 kill una partita direi molto molto buona per quanto riguarda invece i moduli lo skill del comandante è la seguente è un setup full da ibrido barra battle cruiser potenziati a manetta gli AP che sono come avete visto un munizionamento particolarmente interessante ho deciso di non potenziare l'AK perché altrimenti avrei avuto il malus sull'invisibilità e secondo me comunque lui 13 km di spotting non sono un granché quindi vanno gestiti per il resto è tutto un setup per cercare di migliorare i moduli la resistenza ha il cambio veloce di proiettili e la ricarica quando una nave è comunque dentro il vostro raggio di spotting base per quanto riguarda i moduli ho cercato di migliorare un po' il timone perché lui raramente resta fermo non è la Napolis e poi la ricarica dei canoni perché comunque sparare oltre 19 km è già tanta roba per un flank quindi non serve andare a distanze ancora più alte questo invece è per quanto riguarda l'armatura generale del conde che è da studiare ha questa prura poppa da 25 mm i lettori da 140 fino a 210 sono più forti rispetto a quella della Napolis non sempre vengono incapacitate devo dire che sopporta molto meglio il combattimento cruiser contro cruiser sovrastrutture classiche da 16 il ponte centrale da 30 che è un classico dei cruiser francesi e poi il timone rinforzato che ormai è un must su tutti i cruiser per poi avere questo rivestimento da 30 che copre tutta la fiancata è il classico rivestimento che soffre tantissimo gli incendi e anche i colpi di secondaria ecco perché il Napoli ci faceva così male che è un po' presente su tutti i cruiser e anche sulla maggior parte delle corazzate francesi è proprio un loro marchio di fabbrica della Marina Transalpina questa è la cittadella che è molto complicata come potete vedere tolto quel fasciame da 30 laterale c'è una cittadella da 130 un fasciame che copre poi una cittadella vera e propria che è da 180 centrale c'è poi un doppio ponte corazzato da 50 e 150 quelle non sono la cittadella la cittadella inizia dove c'è il 180 e scende poi a 120 e 50 quelle sono le tre zone cittadelle effettive della nave c'è quell'interessante porzione a forma di triangolo da 180 mm rinforzata sui lati che va a lavorare come una sorta di turtle back non è una vera e propria turtle back però ha un diciamo una funzione tale questo gli permette come ho detto prima di angolarvi e riuscire a scheggiare dei colpi che magari con un'armatura come quella della Napolis sarebbero andati direttamente in cittadella ecco perché abbiamo assorbito così bene i colpi iniziali di Montana e Cremlino come avete visto durante il video è un'armatura sicuramente molto superiore a quella di normale flanker come Larry il Condé è molto più forte a livello difensivo rispetto a Larry ed è per questo che vengono a fare queste cose veramente straordinarie anche se comunque Larry è una grande nave a me è sempre piaciuta nerfata nel corso del tempo ma resta un eccellente flanker specialmente nelle random e nelle ranked battle questi comandanti sono i pro e i contro del Condé eccoli qua praticamente i punti di forza sono tantissimi buon quantitivo HP velocissimo praticamente un 38 di nodi più il 20% in più di velocità raggiunge veramente velocità importantissime ampia gittata 19 km per un flanker è ottima coloni potenti numerosi caspita 12 coni da 240 su 3 torri è veramente una nave incredibile da questo punto di vista tra l'altro incendia e riesce a utilizzare i colpi AP a differenza ad esempio del Gibraltar che vi ho fatto vedere qualche settimana fa che non può incendiare i target molto divertente comandanti lo è come perché comunque è una nave che vi permette di fare cose pazzesche consumabili interessanti è comunque ricco di consumabili quindi può aggiustare il suo gioco ed essere adattabile un po' a tutto secondario oltre 9 km è una cosa piuttosto unica infine è estremamente preciso avete visto il colpo 150 metri di dispersione a 19 km pochi cruiser possono vantare una precisione del genere a quella distanza con un calibro così alto quindi è veramente un colpo potente e preciso da questo punto di vista il Condé è il massimo del reparto cruiser francese i punti deboli sono secondo me molto pochi l'armatura non sempre performante comunque perché i scolpi da 4,57 e 4,60 tende a soffrirli oltre ovviamente ai 510 soffre adannatamente i proiettili incendiari grazie a quel rivestimento che vi ho fatto vedere prima quella sorta di 30 mm barra 25 a prue a poppa che è un po' ogni presente sulle navi francesi di un certo tier gli incendi i comandanti cadono e come ma soprattutto il colpo che vi fa malissimo e se vi sparse contro una Conqueror vi farebbe dei danni smisurati il metismo mediocre 13 km per un flanker sono comunque tanti antiera insufficiente contro le portiere tier 10 ce l'abbiamo detto durante il video e infine il consumabile speciale richiede lunghi tempi di ricarica esattamente come il discorso fatto per la Napolis questo nuovo speciale consumabile comandanti è particolarmente utile nel Brawling Final nel combattimento ravvicinato ma non serve poi nell'arco vero e proprio della partita quindi a differenza dei consumabili dei destroyer e anche delle corazzate quelli dei cruiser secondo me sono molto più situazionali quindi è una cosa speciale che in realtà non è poi così speciale come sembra anche perché 44 secondi è tantissimo parliamo di quasi un minuto quindi veramente ci sono tempi apocalittici per riuscire a riavere due salve io sul Condé l'ho usato veramente raramente quel consumabile il tasto F per dirvi comandanti questo era il Condé grande nave tra l'altro abbiamo fatto una live su Twitch martedì o lunedì che potete ancora rivedere perché è salvata un'intera sessione di live da due ore con il Condé in ranked abbiamo vinto otto partite su nove è un crociatore veramente che fa la differenza in acqua la fa e come specie nelle mani di giocatori unicum super unicum veramente una grande nave che non so effettivamente in futuro che fine farà ma veramente una nave con i controfiocchi per tutti quelli che amano i cruiser player da i cruiser style da mare aperto è sicuramente una nave che vi farà letteralmente impazzire se avrete la possibilità di provarla io vi aspetto durante la settimana su Twitch come sempre dopo le 8 dal lunedì al venerdì e per il resto noi ci sentiamo martedì con un nuovo video probabilmente dedicato ai nuovi incrociatori panasiatici vi farò infatti vedere il ramo in anteprima con qualche statistica e qualche caratteristica del nuovo cruiser che vedrete nel primo trimestre del 2022 da Blizzard come sempre ragazzi buona caccia grazie a tutti